E ora chiudiamo con Torre di Ruggero per i festeggiamenti di Santa Domenica, nella giornata di sabato. A Torre di Ruggero, per la serata di sabato, si è tenuto il concerto dei Taranta Ionica. Sul palco tutti i giovani calabresi, con la voce splendida di Eleonora Pelaggi. Alla chitarra e voce Alberto Agiello, al sax Luca Chiarella, all'organetto Mattia Tassone, al basso Carlo Delfino e alla batteria il chiaravallese Mauro Garito. Buona la partecipazione degli amanti delle Tarantelle. Senti la vita mia, come se vanno strana, in valita mia, stai tu in la puntata. Ma no, non è lì, ma no, non è lì, ma no, non è lì, ma no, non è lì. La vita mia, come se vanno strana, in valita mia, stai tu in la puntata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.